In occasione di tali manifestazioni si riscontra frequentemente un significativo livello di inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio. Niente mascherine né distanziamento, per questo nuove regole per le manifestazioni. Lo scrive il ministro dell'interno Luciano Lamorgese in una circolare inviata nella serata di ieri a tutti i prefetti e in vigore da oggi. Nero su bianco le preoccupazioni del Viminale allarmato dalla crescita dei contagi dovuta ai corteino Green Pass. Da un lato va difeso il legittimo diritto al dissenso, dall'altro la salute pubblica. Così, si legge, i prefetti dovranno individuare specifiche aree urbane sensibili di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza in ragione dell'attuale situazione pandemica. Stop a manifestazioni in centro città. Inoltre, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, no cortei, via libera e sit-in. Saranno i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza a valutare, grazie anche all'aiuto dei sindaci, i profili di criticità alla luce dell'andamento del fenomeno epidemiologico. Attirare un sospiro di sollievo sono anche i commercianti che a lungo hanno visto clienti allontanarsi per il passaggio dei cortei no Green Pass. Attirare un sospiro di sicurezza.